Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Vangelo secondo Giovanni, capitolo 14, verso 6. Gesù è l'unica via. Gesù fu categorico nel dire che l'unica via per incontrare Dio è per mezzo della sua persona. Dobbiamo capire innanzitutto una cosa esenziale. Non è l'uomo che può trovare Dio con le sue ricerche, pratiche o ideali, ma è Dio che si rivela l'uomo. Fin dai lavori dell'umanità, gli uomini nel loro sforzo di arrivare a Dio, si sono inventati dei, idoli e religioni, con il risultato che oggi ci sono centinaia di religioni e milioni di persone più o meno sincere che vi si consacrano anima e corpo. La verità è che nessuna religione può salvare l'uomo. La salvezza dell'anima non si trova in una religione, ma si trova in una persona, Gesù Cristo, il figlio di Dio. Pertanto è la fede viva e personale che nel Cristo vivente che ci fa incamminare sulla via che porta Dio, ci fa scoprire la verità che Dio ci ama ed ha risolto il problema del peccato che ci separava da Lui. Ora Egli ti vuole dare una nuova vita se accetti Gesù Cristo, il suo santo figliuolo, come tuo personale salvatore. Credi nel Signore Gesù Cristo e sarai salvato tu con la casa tua. Atti capitolo 16 verso 31.